Mauro Biglino, se tu dovessi presentarti con tre parole, come ti presenti? Allora, io mi presenterei semplicemente come un curioso, cioè una persona che è stimolata appunto dalla curiosità, quando è possibile cerca di andare a fondo negli argomenti che veramente lo interessano. E quali sono gli argomenti che veramente ti interessano? Beh, questi in particolare ovviamente, cioè ciò di cui mi sto occupando in questi ultimi anni, è un tema di cui così mi occupo o comunque nei confronti dei quali provo interesse a partire dagli anni del liceo e poi chiaramente insomma col crescere, con la maturità, insomma l'interesse si è approfondito e quindi di lì è venuta fuori la necessità appunto di andare più vicino alle fonti. Stiamo parlando quindi dello studio del testo sacro, giusto? Quindi dell'Antico Testamento? Sì esattamente, parliamo dell'Antico Testamento e quindi andare più vicino alle fonti significava ovviamente accostarmi, avendo studiato prima latino e greco, accostarmi alla lingua nella quale è scritto il cosiddetto testo sacro. Ma tu hai imparato l'ebraico antico per studiare queste cose o hai studiato queste cose perché sapevi l'ebraico antico? No, io ho imparato l'ebraico, Masoretti, cioè l'ebraico insomma, per approfondire lo studio di queste cose. Quindi uno deduce che tu avessi già una curiosità specifica a quel punto per certi argomenti? Sì, 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 no no, una curiosità fortissima, sì. Una curiosità fortissima, quindi avevi già intuito certe cose usando le traduzioni disponibili in greco e in latino? Sì, allora diciamo questo, che ovviamente avevo delle curiosità che nascevano dal fatto che, per dirla molto semplicemente, c'erano delle cose che non mi tornavano, cioè chiaramente c'erano delle cose che non mi tornavano nel rapporto tra ciò che comunque leggevo nelle traduzioni, quelle normali, quelle che abbiamo tutti in casa, e ciò che in realtà veniva raccontato, no? Perché un conto è leggere la Bibbia, leggerla con una certa attenzione anche nelle traduzioni normali. Altro conto è sentire ciò che della Bibbia e sulla Bibbia ci racconta, diciamo così, la dottrina. E ci sono delle cose che ovviamente non quadrano, proprio in modo abbastanza evidente. Quindi di lì è nato il bisogno di tentare di andare più vicino alla fonte e quindi per questo significava ovviamente necessariamente studiare l'ebraico. Ecco, quando dici non quadrano, qui non stiamo ancora parlando di un sospetto, di una lettura, diciamo, in termini alieni? No, assolutamente, assolutamente. Tutto è molto più semplice, nel senso che viene molto prima, nel senso prima ancora di stabilire se eventualmente la Bibbia parla di altre cose, è che non quadra il fatto che la Bibbia parli di un Dio, cioè del Dio così come ci viene presentato. Quindi il problema nasce già di lì. Indipendentemente poi da altre figure, ciò che non quadra è proprio dire no, ma un momento, il Dio che ci viene rappresentato così come ci viene spiegato, beh, nell'Antico Testamento non c'è. Ma questo lo si capisce già leggendo attentamente le Bibbie che abbiamo in casa. Ecco, io stesso che, non sono un esperto sicuramente, mi sono trovato di fronte a un problema, cioè ogni volta proprio che iniziavo anche solo a leggere la, inizia, non si chiama Bereshit, giusto? La Genesi. Sì, ok. Perché ho scoperto che nell'arco di quattro pagine ci sono due sequenze della creazione dell'uomo e degli animali completamente diverse una dall'altra. Sì, sì, la Bibbia è piena di incongruenze perché ci sono, come dire, più racconti che sono stati, come dire, collazionati, no, e messi assieme, anche se alle volte appunto presentano delle contraddizioni, ce ne sono parecchi racconti di questo tipo, non dico tanto di creazione, ma voglio dire racconti che sono apparentemente o decisamente in contrasto l'uno con l'altro, ma proprio perché la Bibbia è in realtà una raccolta di tantissimi scritti, scritti da un sacco di persone che peraltro non sappiamo neppure chi sono, che hanno scritto nei secoli e poi a un certo punto è stato fatto, come dire, un lavoro redazionale, no, nel tentativo di metterli assieme e dargli un'unità, ma, insomma, è un lavoro di cui si vedono i risultati che spesso sono anche molto scarsi. Quindi, se ho capito bene, prima ti nasce una curiosità generale di fronte alle incongruenze più vistose della Bibbia, poi studi l'ebraico e a quel punto, diciamo, facendo l'analisi linguistica dei termini, ti accorgi che ci può essere una doppia lettura che ti porta alle conclusioni, diciamo, per le quali sei conosciuto oggi, cioè chiamiamola la teoria del Dio alieno. Sì, allora diciamo questo, che la teoria del Dio alieno è proprio l'ultima cosa, no, nel senso che è quella che viene fuori non tanto da una lettura diretta della Bibbia, perché non è che la Bibbia parli, usi i termini, no, che noi possiamo ricondurre al discorso degli alieni, eccetera. La Bibbia ci parla di individui che chiama Elohim e che sono quelli che in modo assolutamente inappropriato, in modo assolutamente artificioso, sono stati trasformati in Dio, ma che con Dio non c'entrano assolutamente nulla. Il passo successivo è quello di tentare di ipotizzare chi possano essere questi individui, no, ma il primo passo, che è quello più importante, è intanto capire che quando la Bibbia parla di questi individui che chiama Elohim, insomma li chiama con nomi diversi Elohim piuttosto che Yahweh o Elion, eccetera, beh, di sicuro non parla di Dio. Il passo successivo è tentare di fare un'ipotesi per capire chi fossero. Quando dici non parla di Dio intendi non parla di un Dio singolare, unico. Esattamente, non parla del Dio della dottrina, non parla del Dio spirituale, trascendente, onnisciente, onnipotente, creatore dei cieli della terra. Faccio, ma dico una cosa che potrà sembrare, non so come dire, inaccettabile, ma che è evidente, l'ho letta anche in certi siti di consulenza, di forum dove parlano eseceti ebrei. La lingua ebraica non ha neppure un termine che indichi Dio così come lo intendiamo noi, cioè Dio inteso come oggetto di adorazione, quindi non c'è neppure il termine che lo indica, tant'è che le parole che vengono inappropriatamente tradotte con il termine Dio significano nei significati che si tenta di attribuire loro, perché in realtà il significato esatto nessuno lo conosce, ma significano tutt'altro, cioè quando i filologi tentano di tradurle dicono che possono essere i legislatori, i ministri, i giudici, i legislatori, i governanti, quelli dell'alto, i potenti, ma come si capisce questi sono tutti attributi che devono essere attribuiti ad un qualcuno, ma è proprio la sostanza di questo qualcuno che non si capisce bene che cos'è, ed è di lì che poi ovviamente nasce l'ipotesi successiva. Di certo questo qualcuno, tutto il contesto biblico, ma al di là della traduzione del termine, è proprio tutto il contesto biblico che ci fa chiaramente capire che con il Dio della dottrina questi individui non avevano veramente assolutamente nulla a che fare. Ok, quindi una volta stabilito il sospetto che il Dio della Bibbia non possa essere un'entità unica, singolare, assoluta, eccetera, eccetera, qual è il primo indizio che ti ha fatto scattare il sospetto che si potesse parlare in realtà di un'entità vivente nel nostro spazio-tempo, per capirci, e quindi di un'entità in qualche modo fisica e non spirituale. Sì, sì. Cos'è stato il primo... Allora, tutto il contesto biblico ci narra delle operazioni che hanno fatto questi qui, e tra le operazioni più... Questi qui gli Elohim. Gli Elohim, esattamente. Io gli dico questi qui perché non traduco mai questo termine, per correttezza, proprio per onestà intellettuale, perché qualunque traduzione in quel caso è proprio una invenzione, nel vero senso della parola. Allora preferisco non tradurla, chiamarli questi qui, quelli là, eccetera. Allora, è proprio tutto ciò che il contesto biblico attribuisce agli Elohim, che mi fa capire appunto che sono, erano, o magari sono ancora, individui che hanno fatto delle cose, tra cui prima di tutto è quello che hanno fatto, hanno scelto un luogo in cui installarsi, se lo sono modificato in modo da renderlo per loro vivibile e utilizzabile, dopodiché hanno fabbricato l'uomo, perché di questo parla la Bibbia, non della creazione, perché come ho detto che nella lingua ebraica non c'è un termine che indica Dio, non c'è neppure un verbo che indichi creare, tantomeno il creare dar nulla, proprio quel verbo non significa creare mai, nel modo più assoluto, ma in nessuna lingua semitica la radice bara significa creare, allora questi hanno fabbricato l'uomo e l'hanno fabbricato utilizzando delle tecniche che noi oggi definiamo di vera e propria ingegneria genetica. Quindi è chiaro che erano individui appartenenti ad un livello decisamente diverso rispetto a quello di chi in quel momento abitava la Terra. Ecco, qui scatta, nel momento in cui tu dici hanno usato tecniche che oggi noi potremmo definire di ingegneria genetica, qui scatta, secondo me, con le virgolette, il problema biglino, cioè metà dell'internet, metà di chi ti segue, diciamo, ritiene che tu sia un genio che ha avuto un'intuizione non da poco e l'altra metà, biglino è tutta fuffa, biglino non porta argomentazioni, si inventa quello che vuole. Ecco, riusciamo a separare all'interno della tua teoria i fatti verificabili e mi rendo conto che sia una cosa molto difficile, cioè io mi occupo di 11 settembre, per me è molto facile misurare, ad esempio, il tempo di caduta delle torri gemelle, prendo il cronometro e ho i miei fatti disponibili per tutti. Per te, nel tuo ambito, ci sono dei fatti incontestabili, inconfutabili, da mettere da parte, da metterli come pietre miliari per poi eventualmente andare a costruire la teoria che tu hai costruito. Allora, intanto i termini che vengono utilizzati per la fabbricazione dell'uomo sono proprio anche i verbi lì che indicano chiaramente che non c'è stata nessuna creazione ma che è stata una vera e propria fabbricazione. Nei miei libri, tra l'altro, li analizzo tutti. Quindi, per esempio, analizzo in uno dei libri, non c'è creazione della Bibbia, analizzo tutte le ricorrenze del verbo bara, tutte le ricorrenze bibliche e in nessun passo della Bibbia significa creare. Addirittura, è sempre il modificare una situazione esistente, modificarla a proprio vantaggio. Per esempio, faccio un esempio banale ma che è evidente, basta leggerlo. In un passo il termine bara è indicato per disboscare i versanti di una montagna per poterci costruire delle abitazioni. Quindi è trasformare. Quindi è sempre trasformare bara, non c'è mai. Poi, che si parli di ingegneria genetica, è scritto persino in un forum di esegeti ebrei, forum di consulenza ebraica, dove c'è scritto che è un forum nel quale io sono molto attaccato, cioè nel senso che mi attaccano, quindi non sto citando un sito di amici miei, sto citando un sito di durissimi avversari miei, i quali hanno scritto lì un esegeta, uno di loro scrive ma che la Bibbia parli di ingegneria genetica, gli ebrei lo sanno da sempre attraverso il Talmud. Ecco, io lo ricavo ovviamente dalla Bibbia perché non mi occupo di Talmud e quindi se lo dice anche il Talmud mi fa piacere, ma io lo ricavo dall'Antico Testamento dove si parla, finisco dove si parla di un termine, per esempio Tzelem, che in tutti i dizionari curati da esegeti, insomma dai rabbini, dove si dice che Tzelem significa appunto quel quid di materiale che contiene l'immagine e che siccome deriva dalla radice verbale Tzalam, e questo è scritto nei dizionari, non lo dico io, significa che è stato tagliato fuori, quindi è proprio tagliato fuori fisicamente, quindi nella Bibbia c'è scritto che gli Elohim hanno fabbricato l'Adam utilizzando quella roba lì, che è quel quid che contiene la loro immagine e che è stata tagliata fuori, e noi oggi abbiamo un termine preciso per indicare quella roba lì, insomma, si chiama DNA. Quindi per rispondere alla domanda in sintesi, se ho capito bene, la mera traduzione precisa, letterale, ti indica che non esiste creazione ex nihilo, nei termini biblici, ma solamente trasformazione di materiale, di materia già esistente. Esattamente, esattamente. Questo automaticamente ci introduce all'altro grande problema, cioè interpretazione letterale o interpretazione allegorica. Tu come ti poni al riguardo? Interpretazione letterale, perché io, allora io dico, sono secoli, no? Che noi conosciamo le interpretazioni allegoriche e metaforiche. Io dico benissimo, teniamole, ok? Sono quelle della teologia, sono quelle dell'esegesi tradizionale. Io rivendico semplicemente il diritto di mettere a fianco di quelle anche la lettura letterale. E perché? Intanto perché una lingua ha significato nel momento in cui quando dice una cosa vuol dire quella. E quella c'è. Poi ci possono essere le altre, ma quella letterale di sicuro c'è. Questa è l'unica certezza che abbiamo. Le altre ci possono essere. Benissimo, accettiamole tutte, però sul tavolo mettiamole tutte. Non diciamo che quella letterale non si deve fare, perché quella letterale non solo si può, ma si deve fare perché è la prima per ogni lingua. Su questo non ci sono dubbi. Dopodiché ci sono le altre. Benissimo, poi ognuno sceglie quelle che vuole. L'importante è dare la possibilità di scelta totale. Cioè, quindi non escluderne una a priori. Quindi i mattoni di partenza di cui parlavo prima sono la traduzione letterale dei vari passaggi. Esattamente, esattamente. Anche perché, se noi riflettiamo un attimo, quei signori che scrivevano, che ripeto non sappiamo chi sono, perché della Bibbia non c'è una riga sola, della quale possiamo dire con certezza sappiamo che l'ha scritta quello lì. Ripeto, non c'è una riga sola su cui si possa fare questa affermazione. Allora, quei signori che scrivevano appartenevano a, dico quelli che scrivevano in origine, non quelli che l'hanno ricopiata, 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 eccetera, appartenevano a quella ristrettissima classe di chi sapeva leggere e scrivere. Ed erano forse l'1%. Allora, quando questi scrivevano e registravano queste cronache, registravano queste memorie, se le registravano per loro. Per cui, tra di loro, non avevano bisogno di raccontarsi dell'allegoria o delle metafore. Perché al popolo, che non sapeva leggere, potevano raccontare quel che volevano. Quindi loro dovevano raccontare e, come dire, registrare delle memorie, delle cronache. Dopodiché, l'interpretazione era un'altra cosa, ma almeno quelle non avevano bisogno di nasconderle, perché se le raccontavano tra di loro, se le registravano per iscritto per mantenerne la memoria. E quindi, siccome la memoria era il controllo di quella memoria, riservato a quei pochissimi che appartenevano alle classi dominanti, tra di loro non avevano bisogno di rendersi le cose per metafore o per allegorie, perché tra di loro le cose se le dicevano come stavano. Poi gli altri raccontavano quel che volevano. Ecco, però a me sorge un'altra domanda a questo punto. Cioè, chi imboccava questi loro? Cioè, loro raccontavano una tradizione orale che poi veniva scritta come per i Vangeli, che sono stati scritti, mi sembra, 60-70 anni dopo la vita degli Apostoli. Oppure avevano un altro tipo di imboccatura, imboccamento, chiamiamolo così, che gli veniva dato in un altro modo. Allora, io penso questo, che quei signori là, cioè gli Elohim, che sono quelli che hanno fatto tutto, da un certo momento in avanti, questo non è scritto nella Bibbia, ma è scritto nei testi da cui la Bibbia deriva, cioè i testi somero-cadici, di cui la Bibbia è, almeno nei racconti di origine, nient'altro che una copia rielaborata. E qui, tra l'altro, c'è un'altra curiosità della dottrina, poi la accenderò magari un attimo. Allora, questi signori hanno, quando hanno cominciato a delegare il loro potere, l'hanno delegato ai cosiddetti re sacerdoti, cioè ai loro diretti rappresentanti. E quindi il come sono avvenute le cose, sono stati quei signori che le hanno fatte, che le hanno raccontate ai loro rappresentanti, a cui hanno cominciato a delegare il potere. E questi hanno sentito il bisogno, ovviamente, di, come dire, metterlo per iscritto, perché erano racconti che riguardavano le origini, quindi racconti importantissimi. Quindi si può dire, almeno tecnicamente, che la Bibbia sia verbo divino? Se per divino intendiamo quelli là, esattamente, sì. Tra l'altro, dicevo prima appunto, proprio adesso, guarda, questa tua domanda è curiosa, perché si aggancia a quello che volevo dire. Se noi pensiamo bene alla dottrina, tutti noi abbiamo studiato storia, no? Nelle scuole. Quando studiamo la storia antica, quindi quella egizia, quella sumero-accadica, ci sentiamo dire che sono miti, che sono leggende, no? Che sono favole attraverso le quali i popoli del tempo hanno voluto. Bene, tutti gli studiosi biblisti, tutti sanno, e lo scrivono in assoluta tranquillità, che i racconti di origine della Bibbia non sono altro che copie rielaborate di racconti, in particolare sumero-accadici e fenici. Bene, noi ci troviamo di fronte ad un'affermazione assurda, e l'affermazione della dottrina è questa, che i racconti sumero-accadici e fenici sono miti, favole, leggende. I racconti della Bibbia sono verità ispirata da Dio, per cui noi abbiamo gli originali, che sono dei miti, le copie rielaborate sono verità ispirata da Dio. Io devo dire che sono stati molto bravi nel raccontarci questa roba qui e farcela credere. Questo vuol dire che gli Elohim leggevano la Bibbia sumero-accadica. No, diciamo che gli Elohim sono loro che hanno dettato la, fra virgolette, Bibbia dei sumero-accadici, che è quella più antica, cioè sono i racconti più antichi, e quindi lì si sono registrate le memorie. Non è un caso, tra l'altro, che quei racconti lì siano molto più particolareggiati della Bibbia. Cioè la Bibbia è veramente un bignami di quei racconti lì, ed è un bignami anche perché la Bibbia purtroppo è finita nelle mani dei teologi, ebrei prima e cristiani dopo, ovviamente, e quindi è stata tutta rielaborata in funzione teologica. I racconti da cui deriva sono molto più particolareggiati, per esempio i racconti della fabbricazione dell'uomo, che nella Bibbia sono ricondotti ad un evento unico, cioè si dice Dio ha deciso di fare l'uomo, l'ha fatto, punto. No, là ci raccontano addirittura degli esperimenti sbagliati che hanno fatto, ci raccontano addirittura da dove hanno preso quel pezzo che la Bibbia chiama Zeleme, che dicevo prima è stato tagliato fuori. Là c'è scritto che lo prendevano purificando il sangue dei loro maschi giovani. Quindi tutto questo nella Bibbia non c'è più, perché nella Bibbia si è deciso che quello doveva essere Dio, e quindi si dice Dio decide di creare l'uomo e l'uomo è fatto. Là ci raccontano che hanno fatto degli esperimenti sbagliati, cioè prima di arrivare a fare quello giusto, che là non a caso si chiama Adamu, prima di arrivare a fare l'Adamu, che è l'Adam biblico, hanno fatto un sacco di altri individui che non funzionavano. E questo è estremamente concreto, estremamente bello e affascinante. Quindi, se ho capito bene, le tracce del, tra virgolette, Dio alieno, tu le trovi già? Sicuramente, lì sono molto più chiare. Sono addirittura più chiare. Sì, molto. Ci sono altri studiosi traduttori dalla lingua originale, oltre a te, che sono arrivati alle stesse conclusioni a cui arrivi tu? Sì, guarda, ci sono appunto diversi autori che ne hanno scritto. Aspetta, scusa, chiarisco meglio la domanda. Visto che, come dici tu, la traduzione letterale è quella, e da lì non si dovrebbe scappare, dovrebbe esserci almeno una specie di consenso generalizzato sulla traduzione, diciamo, sulla traduzione letterale del testo sacro. Poi ognuno la possa interpretare come vuole lui, un'altra cosa. Allora, diciamo così, non esiste in modo evidente una base di consenso generalizzato per un motivo molto semplice, che capisco anche. Nel senso che, voglio dire, chi è all'inter... Io, per esempio, quando ho cominciato a raccontare queste cose qui, ho perso immediatamente il mio lavoro da traduttore per le edizioni San Paolo. Io quindi capisco chi, traducendo, arriva... Perché io non ho scoperto nulla, cioè in realtà io racconto ciò che leggo perché non c'è nulla da scoprire. Io capisco chi legge quelle cose e continua a raccontare ciò che la gente vuole sentirsi dire, perché comunque va molto bene così. Peraltro ci sono invece questo in via privata, e questo io lo... Però ovviamente questo non lo posso documentare, quindi non ha nessun valore. Persone che mi dicono, persone che mi scrivono, compreso persone del mondo ebraico, che mi dicono vai avanti perché è arrivato il momento che la gente sappia che cos'è lo Tzelem, sappia che cos'è il Kavod, sappia che cos'è il Ruach e cose del genere. È chiaro che invece nella tradizione comunque continua a rimanere quella che è la traduzione e l'interpretazione tradizionale, perché vabbè, mi rendo conto che è anche quella che la maggior parte della gente vuole sentirsi dire. Però ripeto, non sono il primo assolutamente, non sono il primo, non ho scoperto nulla. Se vuoi ho semplicemente avuto l'incoscienza di raccontarlo con troppa chiarezza, mettendo i versetti ebraici nei miei libri. Conosciamo tutti i problemi che derivano da questo. Dall'eccessiva franchezza. D'altronde, qualcuno le porta e deve iniziare a sfondarle. Esatto, sì. Dunque, un'altra domanda. Che cosa ti porta a concludere, con relativa certezza, che stiamo parlando di alieni, cioè praticamente di entità viventi che non vengono dal nostro mondo e non invece magari di entità superiori che vengono da precedenti civilizzazioni terrestri? Ecco, sì, guarda, su questo io devo dire non entro mai nella diatriba che c'è perché in fondo per me cambia poco. Cioè nel senso che allora io tendo a pensare ad entità provenienti da altri pianeti per un semplice motivo. Perché le culture di tutti i continenti della Terra ci raccontano in sostanza la stessa storia che è la storia di quelli lì, chiamati ovviamente con nomi diversi, e ci dicono che sono i figli delle stelle, cioè provenienti da altre parti. Purtroppo nella Bibbia questo riferimento non c'è. Quindi dal punto di vista biblico io non ricavo una notizia di una provenienza, questo lo dico da sempre, di una provenienza diciamo extraterrestre. La notizia, quindi l'ipotesi che io faccio, mi deriva appunto dai racconti che vanno dall'India, alla Cina, al Giappone, all'Africa, nei stessi racconti degli Zulu, piuttosto che nei racconti centro-sud americani, eccetera, dove si parla di individui provenienti dalle stelle. E quindi dico, siccome quegli individui lì hanno esattamente le stesse caratteristiche degli Elohim biblici, allora ovviamente faccio uno più uno fa due, dico, siccome parlano tutti degli stessi individui, e tutti gli altri, intendo dire gli altri i cui testi non sono finiti nelle mani dei teologi che hanno avuto la necessità e l'obiettivo di creare una dottrina monoteista, beh, tutti gli altri con assoluta tranquillità, serenità, ci parlano dei figli delle stelle. Allora dico, siccome gli Elohim hanno le stesse caratteristiche e sono quelli là, allora anche questi devo immaginare che. Qualora si invece, come dire, arrivasse a dire che sono invece appartenenti a delle civiltà precedenti, magari le rimaste dopo la grande catastrofe del diluvio, per me, francamente, non cambia assolutamente nulla, cioè io non ho, come dire, l'obiettivo, la velleità di dire, ah, sono alieni, non alieni. Secondo me è più probabile che siano così, se poi si scoprisse che mi va benissimo lo stesso. L'importante, a questo punto per me, è che la gente capisca che quando la Bibbia parla di quelli lì, non parla di Dio, perché la Bibbia non si occupa di Dio. Quindi a loro volta gli Elohim sono creati da qualcosa, da qualcuno. Ah, certo, di Dio si occupa la fede. Se gli Elohim sono, come a me pare, insomma è una delle poche certezze che ho, individui in carne ed ossa, ed erano tanti, la Bibbia tra l'altro li nomina anche diversi di loro, li chiama per nome, se in carne ed ossa, su questo, mangiavano, bevevano, si sporcavano, dovevano lavarci, dovevano riposare, potevano essere aggrediti, eccetera, 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 quindi su questo io non ho nessun dubbio, poi ripeto, alieni o appartenenti a civiltà precedenti, mi va bene lo stesso, non mi cambia assolutamente nulla, ma appunto dico, allora, questi qui, la Bibbia parla di questi, non parla di Dio, e quindi questo secondo me è il concetto fondamentale. Capito questo, di lì in avanti poi cominciano le ipotesi, insomma. Quindi diciamo che il tuo problema, come biglino, nasce nel momento in cui tu neghi il Dio monoteistico del testo sacro. Nego il Dio della Bibbia, nel senso che io di Dio non so nulla, non ne parlo mai, quindi io non nego Dio. Di Dio si occupa la fede, quindi Dio esiste, va benissimo, Dio esiste, io non ho nulla da dire, perché di Dio non so nulla, quindi non posso né affermarne né negarne l'esistenza. Chiaro che se Dio esiste, gli Elohim sono, come dire, sue creature, come tutto ciò che esiste nell'universo, fanno parte, se la fede vuol parlare di un disegno providenziale, fanno parte del disegno providenziale di questo Dio, ma di questo si occupa la fede. Io dico che la Bibbia non si occupa di Dio. Quello che è stato fatto sulla Bibbia è stato utilizzarla per ricavarne un'idea di Dio, ed è di qui che torniamo al discorso iniziale, delle incongruenze, un'idea di Dio che con il testo biblico non ha nulla a che vedere. Questo è l'assurdo. Cioè il Dio che è stato elaborato dalla teologia, partendo dalla Bibbia, con quel Dio della Bibbia, insomma Yahweh, quello che è stato fatto diventare, non ha veramente nulla a che vedere. Tant'è che devono dire, ed è di qui che si ritorna al discorso dell'allegoria, della metafora, tant'è che chi ha inventato quel Dio è costretto a dire, ma la Bibbia quando dice una cosa ne vuol dire un'altra, perché se leggiamo ciò che vuol dire, quel Dio lì lo capiscono tutti che non esiste. Ed è per questo che mi si dice da anni che non devo fare la lettura letterale, perché se si fa la lettura letterale si capisce che quel Dio lì, quello lì, non dico Dio in assoluto, su questo voglio essere chiaro, quel Dio lì non esiste, se lo sono inventato, e la lettura letterale ce lo rivela, tant'è che, ripeto, sono costretti a dire, quando la Bibbia dice questo, in realtà vuol dire un'altra cosa. Va bene, liberi di farlo, però io devo essere libero di fare la lettura letterale. Stessa libertà per tutti. La cosa che a me ha sempre colpito da non esperto è di leggere di questo Yahweh che continua a ripetere ogni tre per due, io sono il tuo unico Dio, non avrai altro Dio all'infuori di me. Voglio dire, se sei l'unico, che bisogno hai di ripeterlo continuamente? Aveva un bisogno disperato, aveva un bisogno disperato di ripeterlo, e continuamente ripeteva, se tu ti rivolgi agli altri, tu popolo, ti rivolgi agli altri Elohim, io ti stermino. E qui mi viene un'altra domanda, so che tu di Vangeli non ti sei mai occupato, almeno ufficialmente. A livello pubblico, sì. Però a me a questo punto avviene un'altra domanda, cioè Gesù nei Vangeli ripete spesso e volentieri il Padre mio che è nei Cieli. È giusta la traduzione prima di tutto e che significato può avere? La traduzione è giusta, nel senso che anche nei Vangeli ci sono in alcuni casi dei problemi di traduzione un pochettino, come dire, pilotate. Evidentemente, lì chiunque capisca il greco proprio lo vede immediatamente che la traduzione è pilotata. Basta prendere un normale dizionario di greco e lo si vede. Ma quando Gesù parla del Padre si parla effettivamente del Padre. L'unica cosa che bisogna capire è che quando Gesù parla del Padre di sicuro non si rivolge al Padre biblico. Intanto perché il Padre biblico, questo Yahweh non è Dio e quindi se non è Dio Gesù non può rivolgersi a lui. Secondo, perché Gesù dice anche che il Padre mai nessuno l'ha visto mentre Yahweh l'ha visto un sacco di gente e quindi è chiaro che Gesù non poteva parlare di lui. Addirittura Yahweh in un capitolo ha fatto a botte con non mi ricordo più chi. Beh, con un sacco di persone ne ha fatto uccidere un sacco quindi tra l'altro ha fatto proprio una lotta a cazzotti. Con Giacobbe, con Giacobbe. Esatto. Quello io lo trovo uno dei passaggi più comici in assoluto. Sì, esatto, ma ce ne sono tanti. Allora, sono comici se si pensa che è Dio. diventano logici, normali, trasparenti senza necessità di interpretazione se li si legge per ciò che sono. Allora lì non c'è bisogno di interpretare nulla. Basta leggere. Allora, andiamo al cuore del problema. Se questa è la traduzione letterale e se non ci sono, come dici tu, grossi dubbi e anzi ne hai delle conferme anche se non le hai ufficialmente sulla lettura letterale del testo da dove nasce? Dove sta il problema Biglino? Qual è il problema che poni tu? Allora, il problema Biglino nasce nel momento in cui Biglino tocca Dio. Cioè tocca il Dio della Bibbia. E allora nasce sia in ambito cristiano sia in ambito ebraico ma soprattutto sionista più che ebraico perché, ripeto, io ho molte conferme dal mondo ebraico. Quindi, perché? Perché toccare Yahweh in quanto figura di Dio significa toccare tutto ciò che c'è stato costruito sopra dal punto di vista, diciamo così, giudaico-cristiano. Significa toccare le base di una ideologia, nel senso, appunto, conosciamo l'ideologia sionista ovviamente dall'altro punto di vista perché, ad esempio, prima citavo questo forum dove io sono... Scusami, chiarisci bene perché usi il termine sionista? Beh, perché voglio dire un conto è la cultura ebraica, un conto è la cultura sionista che ritiene di avere particolari diritti. Quindi per sionista intendi la visione di Theodor Herzl. Esattamente, sì, sì, esattamente il sionismo moderno. Sì, sì, esattamente. Particolari diritti che deriverebbero da questo Yahweh. Ora, è chiaro che se la gente capisce chi è Yahweh, beh, insomma, si capisce che questi diritti... Netanyahu di colpo perde il lavoro. Esattamente, esattamente, esattamente. E quindi questo non va toccato perché, ripeto, prima citavo questo forum dove sono molto attaccato, lì sono stato definito anche asino patentato, mi va benissimo, non è un problema, ho le spalle larghe. Però lì c'è scritto che la Bibbia parli di ingegneria genetica, gli ebrei lo sanno da sempre attraverso il Talmud. Che i malachim biblici che fossero degli individui in carne ed ossa e non gli angeli, loro lo sanno benissimo. Che i cherubini, io ho dedicato due capitoli in uno dei miei libri al discorso dei cherubini che non solo non sono angeli ma per documentare che fossero macchine e loro scrivono, che i cherubini fossero degli oggetti meccanici, gli ebrei lo sanno da sempre attraverso il Talmud. Ho dedicato un capitolo a documentare che Satana non esiste e lì hanno scritto il capitolo sul Satana Mauro Biglino lo ha egreciamente trattato e gli facciamo i nostri migliori complimenti. C'è scritto che la Bibbia non sia un libro di religione su questo Mauro Biglino ha ragione. Se io non toccassi Yahweh, io e questi signori siamo d'accordo al 99%. Il problema è che tocco Yahweh ed è questo che non devo toccare. Ma come smentiscono con l'1% in più? E come fanno? Perché dicono che Yahweh è comunque Dio. Però quella è un'affermazione. Ah, lo affermano e basta. E quella è un'affermazione. Quella è un'affermazione. Cioè perché lì Yahweh allora anche lì tradurre Yahweh è impossibile nel senso che anche lì sono state come dire ipotizzate. Per esempio non so c'è addirittura un rabbino che nelle pubblicazioni della Jewish Publication Society quindi siamo al top del pensiero rabbinico mondiale lì scrivono tutti i docenti universitari nell'università giudaiche quindi non ci sono dubbi dice che per esempio Yahweh potrebbe essere un'esclamazione del tipo quando lo vedevano arrivare dicevano ecco è lui e quindi è rimasto quello cioè voglio dire non sappiamo neppure cosa significhi no? Perché e tra l'altro non sappiamo neppure in che lingua sia stato pronunciato in origine perché quando era pronunciato in origine l'ebraico non esisteva quindi poi dopo è stato messo per iscritto secoli dopo sono state messe per iscritto solo le consonanti perché le vocali non si scrivevano le vocali sono state scritte altri 1600 anni dopo insomma quindi viviamo in un mondo dove veramente pretendere di avere delle verità assolute è perdonate il bisticcio è pretenzioso nel senso che sappiamo pochissimo allora su questo pochissimo viaggiamo per ipotesi facciamo finta e poi dopo di che vedremo se un giorno avremo la verità bene l'accetteremo ecco però proprio per questo problema della letteratura ambigua dovuto al fatto che mancano le vocali che le lettere sono tutte attaccate eccetera eccetera ci sono nei passaggi che tu usi e che dai come solidi nella traduzione delle letture alternative dovute proprio al fatto tecnico che appunto le vocali mancano e che le lettere sono tutte attaccate una dietro l'altra guarda io per non sbagliare e per non essere ancora di più attaccato io uso il testo vocalizzato dai masoreti ebrei io non cambio una vocale cioè non metto io le vocali io uso il testo che è il cosiddetto codice di Leningrado che è il testo dove i masoreti cioè i custodi della Masoradi che è una delle tradizioni ebraiche hanno messo le vocali quindi i suoni vocalici da quel libro derivano tutte le Bibbie che abbiamo sostanzialmente tutte le Bibbie che abbiamo in casa e quindi io lavoro su quel libro io non cambio una vocale una uso le vocali messe dai masoreti perché se addirittura io togliessi quelle vocali e ne mettessi delle altre allora lì veramente avrebbero diritto di dire che io mi invento veramente tutto peraltro c'è una parte dell'esegesi ebraica che toglie in alcuni casi non sempre toglie quelle vocali e ne mette delle altre sono liberissimi di farlo anche perché essendo ebrei poi nessuno dice loro nulla se lo facessi io mi massacrerebbero già più di quel che avviene normalmente ma loro sono liberi di farlo e fanno bene a farlo questo però documenta una cosa che quello non è un libro sacro perché se quello fosse un libro sacro nessuno lo toccherebbe perché sarebbe un tabù se sono liberi di togliere delle vocali e metterne delle altre vuol dire che loro per primi non lo considerano un libro sacro fra l'altro scusa non lo dice la Bibbia stessa che è proibito in qualunque modo alterare il testo sacro questo è ciò che ha introdotto la tradizione poi però in realtà questo viene viene fatto quindi in un testo modificato tu leggi che è proibito modificare quel testo si tra l'altro guarda c'è un docente della Hebrew University di Gerusalemme che è il professor Alexander Röfe che insegna da 40 anni è un biblista e lui dice che l'unica una delle poche certezze che abbiamo lo scrive non lo dice lo scrive che una delle poche certezze che abbiamo è che la Bibbia che leggiamo oggi non è quella scritta in origine perché tutte le volte che la riscrivevano la ricopiavano o la riscrivevano sotto dettatura comunque la cambiavano lo dicono loro quindi noi facciamo finta che questo sia il testo scritto ma è un fare finta essendo molto buoni perché di sicuro lo scrivono loro lo ripeto non lo dice Mauro Biglino che non è nessuno lo dice uno dei massimi docenti ebrei della Hebrew University di Gerusalemme che una delle poche certezze è che la Bibbia che leggiamo oggi non è quella scritta in origine perché ogni volta che la riscrivevano la cambiavano usando interpolazioni o semplicemente ah di tutto tagliando aggiungendo cambiando cambiando i termini per esempio dice non so il libro di Geremia era sicuramente molto più lungo di quello che abbiamo adesso lui stesso dice che per esempio nel libro di Geremia è stata inserita una profezia sulla presa di Gerusalemme da parte dei babilonesi dice però quella profezia è stata inserita dopo lo so capace anch'io esattamente dopo che i babilonesi hanno preso Gerusalemme hanno inserito quel passo lì per far credere che fosse stato profetizzato ma non lo dice Mauro Biglino lo scrive il professore Alexander Refe cioè voglio dire gli studiosi non legati e non condizionati da un pensiero teologico queste cose le dicono in assoluta tranquillità quindi con la Bibbia andiamo cauti nel ricavare delle verità assolute facciamo delle ipotesi e siamo tutti più sereni quindi se ho capito bene per sintetizzare il problema posto da Biglino è questo che lui porta dei dati di fatto incontrovertibili a livello singolo di unità ma quando tu metti insieme tutte queste unità arrivi a una conclusione che di per sé non è accettabile esattamente esattamente che non è accettabile per la tradizione dottrinale perché ovviamente la mette in discussione ma la mette in discussione perché è il testo stesso della Bibbia che la mette in discussione tant'è che per esempio per il termine Elohim vengono ipotizzate lo accennavo prima un sacco di traduzioni possibili ripeto possibili perché di certa non ce n'è neppure una e quindi ne vengono ipotizzate tante il passo successivo però che fanno diciamo gli esegeti teologi monoteisti è dire allora siccome Elohim significa quello qualunque cosa sia non ha importanza vuol dire che Yahweh è Dio no siccome Elohim significa quello e io accetto qualunque traduzione gli esegeti teologi monoteisti diano non la metto in discussione perché tanto nessuno potrà mai sapere se è vero a meno che non ci siano gli Elohim stessi a dircelo quindi io la accetto ma tutti devono prendere atto che quel significato lì quale che sarà la Bibbia lo applica a decine di individui quindi non è che definendo un significato si arriva a dire dunque Yahweh è Dio no se diciamo che Elohim significa Piripacchio benissimo dobbiamo prendere atto del fatto che Piripacchio vale per Yahweh vale per Milcom vale per Camosh e vale per tutti gli Elohim di cui la Bibbia parla quindi non cambia nulla quale che sia il significato la Bibbia lo applica a decine di individui finito quindi a me sta bene qualunque significato gli esegeti teologi monoteisti definiscano per Elohim a me sta bene non ho nessun problema leggo la Bibbia e vedo che la Bibbia quel significato lo applica a decine di individui punto e Yahweh non è che uno dei tanti uno dei meno importanti tra l'altro io ne so poco però avevo letto una cosa nella tradizione vedica e mi sembra che anche lì esistano non so se li chiamano Zihankoan o qualcosa del genere che sono esattamente l'equivalente degli Elohim certo ovvero i creatori della materia e i guardiani della terra esattamente che ti risulti in quante culture e tradizioni antiche esiste la figura di questo forgiatore della materia cioè il manufatturiero tanto per capirci in tutte in tutte perché ripeto tutti i popoli di tutti i continenti della terra che hanno lasciato delle tradizioni importanti ci raccontano tutti la stessa storia ovviamente usando dei termini diversi perché ognuno lo fa ognuno lo fa nella sua lingua ma per esempio nel libro che esce tra un paio di mesi io ci sono decine di pagine dove io ho fatto un'analisi parallela tra l'antico testamento e i testi omerici raccontano esattamente omerici quindi lì è d'odissea perché farlo con i testi vedici cioè i testi quindi dell'India è persino troppo facile cioè lì l'evidenza dei parallelismi è talmente grande che non basta chiudere gli occhi per non vederla bisogna mettersi ma non bastano delle fette bisogna mettersi dei prosciutti interi per non vederla allora lì come dire la lascio stare perché è fin troppo facile sono andato invece a rileggermi perché insomma dagli studi classici i testi omerici per accorgermi e far notare lì riporterò tutti i versetti greci a fianco dei versetti ebraici come quando la Bibbia parla degli Elohim e Omero o chi per lui insomma parla dei cosiddetti Teoi parlano esattamente degli stessi individui che fanno le stesse cose che hanno addirittura le stesse esigenze neurofisiologiche vogliono le stesse cose cioè raccontano anche l'idea dell'odissea sono memorie storiche di eventi precisi dove ciò che fanno gli Elohim biblici lo fanno i Teoi Omerici questo è impressionante perché se si vuol parlare di allegoria o metafora o si vuol parlare di fantasia degli autori antichi allora bisognerà e gli studiosi dovranno prendere atto che gli autori biblici e gli autori omerici hanno avuto le stesse fantasie e hanno utilizzato le stesse allegorie le stesse metafore questo è statisticamente impossibile è molto più facile molto più di buon senso dire che tutti ci hanno raccontato la stessa storia perché ovunque andassero questi qui facevano le stesse cose oppure c'era qualcuno che controllava i media internazionali di allora e magari sì esatto distribuivano le veline per tutti le stesse notizie del giorno esatto sì questa è una spiegazione possibile gli elohim possono il termine secondo lei ha lo stesso significato di elohim io direi che al di là del significato che è appunto qualcosa di estremamente difficile da identificare invece direi che gli elohim si possono identificare con gli annunna o annunnaki c'è però un significato su questo che è come dire abbastanza accettato che è il significato per il sumero-cadico di anu che significa quello alto quello dell'alto e che è un po' che nei racconti sumero-cadici risulta essere il padre di Enki Enki ed Enlil quindi questo anu sarebbe il signore dell'impero nella Bibbia c'è il termine Elion che è rappresentato chiaramente come il capo degli elohim perché è quello che fa le assegnazioni cioè quello che mette i vari popoli nei vari posti e poi dice tutti occupi ed è lui che dice a Yahweh tutti occupi di Giacobbe e dei suoi discendenti quindi è lui che prende le decisioni e Elion nella Bibbia in ebraico significa proprio quello che sta sopra quindi c'è una corrispondenza in questo caso qui sì c'è una corrispondenza filologica di traduzione tra anu ed Elion in questo caso c'è per quanto riguarda Nunna e Nunnaki sappiamo ci sono anche lì varie ipotesi di traduzione si dice quelli discesi dall'alto oppure c'è chi lo traduce come il seme più importante derivando da da A all'acqua eccetera quindi che siano quelli discesi dall'alto come una certa parte della filologia dice o che sia il seme più importante come dicono altri ricercatori altri traduttori diciamo che comunque dal punto di vista delle figure gli Anunna o Anunnaki a seconda che lo si dica con l'aggiunta del suffisso chi che indica la terra e quindi anche qui tra l'altro io in uno dei libri ho citato un passo tradotto dai più importanti sumerologi quindi nessun traduttore accademico soltanto sumerologi accademici pubblicato dalla UTET e si dice che quando gli Anunna non circolavano ancora sulla terra avevano una dimora celeste priva di vegetazione quindi questo avremmo nei testi sumerocadici una conferma che questi qui arrivano da un'altra parte perché si dice quando ancora non circolavano sulla terra quindi vuol dire che c'è stato un periodo in cui questi qui non c'erano e se gli Elohim come io penso perché questo viene fuori abbastanza evidentemente sono il corrispettivo degli Anunna Anunnaki beh insomma uno più uno fa due scusa una curiosità mia che mi è venuta adesso sentendoti è una cosa che ho lì da molto tempo non ho mai capito all'epoca in cui c'erano i giganti sulla terra sì che cosa cavolo vuol dire vuol dire che c'era probabilmente un'altra razza che era una razza di giganti che non dovevano essere il corrispettivo degli Anunna o degli Elohim perché mentre gli Elohim dice la Bibbia chiaramente si univano sessualmente con le femmine Adam e facevano dei figli beh i giganti insomma la Bibbia dice che dormivano in letti lunghi 4 metri larghi 2 forse avrebbero avuto qualche lo dice la Bibbia chiaramente nelle Bibbie che abbiamo in casa e non nelle traduzioni di Mauro Biglino proprio nelle Bibbie che abbiamo in casa basta leggerle sono quelli sono quelli che si univano alle donne dell'uomo no 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 la Bibbia dice che quando gli Elohim si univano alle femmine Adam sulla terra c'erano i giganti quindi vuol dire che sono un'altra cosa e dice poi c'erano anche dopo no però non dice che sono i figli di quell'unione dice che c'erano quando quelle unioni avvenivano c'erano quindi era par di capire che fossero un'altra razza anche perché è difficile pensare che magari gente altra 3 metri e mezzo potesse unirsi sessualmente con donne femmine mediamente alte 1,50 1,60 forse c'era qualche insomma ci poteva essere qualche problema fisio anatomico però quindi la Bibbia ci parla di questo e parla anche perché questi giganti biblici sono sempre rappresentati in contrasto con l'Elohim miahweh cioè quindi un qualcuno che combatteva contro ma dunque sì a livello di curiosità sicuramente spiega cos'è il Talmud per quelli che non lo sanno sì allora il Talmud è come dire la letteratura ebraica una parte della letteratura ebraica extra biblica quindi un'opera che si è venuta formando nei secoli che contiene il pensiero di molti rabbini che a partire dalla Bibbia hanno elaborato quindi tutto ciò che per esempio nella Bibbia non è chiaramente scritto e quindi hanno tentato di interpretarlo riraccontarlo studiarlo capirlo analizzarlo e poi hanno elaborato anche diciamo così una loro tradizione orale allora quindi il discorso del Talmud è sicuramente come dire sarebbe anche interessante il problema è il problema dei tempi siccome ovviamente a noi viene detto che la Bibbia è il libro che contiene l'ispirazione divina il Talmud no è chiaro che quindi ho scelto per ovvi motivi di occuparmi del libro che è considerato il libro sacro poi per esempio per molti ebrai il Talmud è più vero della Bibbia sia ben chiaro e anche su questo non ho nulla da dire perché la Bibbia è un libro scritto da uomini il Talmud è un libro scritto da uomini può darsi benissimo che il Talmud contenga molte più verità della Bibbia su questo io non ho assolutamente nulla da dire perché tanto sono sempre uomini che l'hanno scritto quindi poi ognuno può scegliere quello che gli piace di più quelli che sostengono la Bibbia come verbo divino i fondamentalisti diciamo come se la cavano con il fatto che molti dei fatti descritti nei testi biblici esistono già nei testi precedenti ma addirittura ho letto che qualcuno di loro addirittura dice che la Bibbia in realtà è il libro più antico della terra ma è qualcosa che non cioè voglio dire poi si fanno le affermazioni di fede per partito preso in realtà è chiaramente ampiamente documentato che ci sono dei testi molto più antichi della Bibbia la Bibbia è molto più recente perché la Bibbia a voler essere buoni dobbiamo dire che è stata riscritta dopo perché noi di testi precedenti in realtà non ne abbiamo dopo l'esilio babilonese in realtà per molti studiosi la Bibbia quindi diciamo nel quinto secolo avanti Cristo tanto per intenderci per molti studiosi la Bibbia è stata scritta nel quinto secolo avanti Cristo non riscritta quindi scritta ex novo per molti studiosi e mentre i testi sumero-accadici tutti lo sappiamo sono di gran lunga più antichi e i testi sumero-accadici sono scritti non sono a tradizione orale sono scritti sono scritti chiaramente sono scritti sono scritti sono su tavolette eccetera quindi ma voglio dire per esempio il racconto della Genesi è la coppia rielaborata dell'Enuma Elish il racconto del diluvio è la coppia rielaborata dell'Atrasis o epopea di Gilgamesh insomma questo proprio l'evidenza è totale non voglio dire soltanto una chiusura ma veramente una grande chiusura fa dire che la Bibbia è più antica di quei testi perché insomma li abbiamo sotto gli occhi la Bibbia i testi più antichi che abbiamo in questo momento sono circa del secondo secolo avanti Cristo che sono i testi di Qumran i testi sumero-accadici sono di 1500 anni più antichi ecco a proposito di Qumran ho letto non so se mi ricordo male che è un libro di Isaia quasi completo trovato Qumran conferma in qualche modo la correttezza del testo biblico originale perché è praticamente identico pur avendo fatto un percorso fisico completamente diverso praticamente identico salvo circa 300 varianti alcune sono parole intere che ci sono nell'uno e non ci sono nell'altro e viceversa quindi questo conformerebbe che avevano una tradizione orale abbastanza precisa insomma beh 300 varianti sono tante però allora è chiaro che c'è stata una tradizione orale ma per esempio adesso hai citato il libro di Isaia ed è una cosa molto curiosa ed è una cosa molto curiosa il libro di Isaia ha 66 capitoli allora i capitoli dall'1 al 39 si dice che sono stati scritti da Isaia i capitoli dal 40 al 55 sono stati scritti lo dice tutta la tradizione dottrinale quindi non è Biglino che lo dice questo lo si trova anche nelle pagine di presentazione che nelle Bibbie che abbiamo in casa dal 40 al 55 sono stati scritti dal Deutero Isaia che tutti gli studiosi non Biglino gli studiosi docenti pontifici dicono che ha scritto circa due secoli e mezzo dopo Isaia i capitoli dal 56 al 66 sono stati scritti dal trito Isaia che ha scritto alcuni decenni dopo il Deutero Isaia quindi nella migliore dell'ipotesi il libro di Isaia è stato scritto da tre persone che nella migliore dell'ipotesi che hanno scritto nell'arco di 250 anni quindi dire che il libro di Isaia è stato scritto di Isaia è nel momento in cui lo si afferma una balla perché tutti sanno che è attribuito almeno a tre autori diversi ma la cosa non è così semplice perché i capitoli dall'1 al 39 come scrive il professor Penna docente pontificio dice che li attribuiamo a Isaia perché non abbiamo nessun motivo per negarlo non perché sappiamo che li ha scritti lui ma attenzione dal 1 al 39 salvo i capitoli dal 13 al 23 che con ogni probabilità sono stati scritti molto dopo Isaia salvo l'apocalisse di Isaia che molto probabilmente non l'ha scritta lui ma c'è anche un'apocalisse di Isaia cioè all'interno dei capitoli dall'1 al 39 c'è una piccola apocalisse di Isaia e quindi in realtà vuol dire che noi quel libro lì non sappiamo chi l'ha scritto neppure il libro di Isaia sappiamo chi l'ha scritto e se poi volessimo dire che l'ha scritto Isaia visto che tra l'Isaia di Qumram e l'Isaia dei Masoreti ci sono da 250 a 300 varianti dovremmo chiederci quale dei due ha scritto? Ecco ma a cosa portano le varianti dell'uno e dell'altro senso cioè in una direzione precisa o sono soltanto incongruenze? Sono incongruenze adesso proprio che ci sia una grande direzione precisa no cioè diversa no però sono incongruenze ma comunque questo sta a significare che quando scrivevano gli uni da una parte e quando scrivevano gli altri da un'altra scrivevano comunque cose diverse quindi non c'era un rispetto assoluto di un testo che è arrivato immutato attraverso i secoli perché anche soltanto 250 varianti vuol dire che c'erano persone che scrivevano cose diverse questo non ci sono dubbi è lì sotto gli occhi di tutti e quindi è un po' come il Vangelo di Tommaso che ha un 50% di fatti riportati anche dai Vangeli canonici e un 50% che invece non corrisponde di questo però bisogna prendere atto cioè di questo bisogna prendere atto non c'è niente da fare poi che si dica nella sostanza va bene nella sostanza sì ma intanto vuol dire che non c'era una tradizione precisa che è stata rispettata in modo passata inalterata attraverso i secoli perché l'hanno alterata continuamente devo dire che io trovo con te moltissimi paralleli con le lotte che ho fatto io per l'11 settembre perché pur essendo argomenti completamente diversi le dinamiche sono identiche cioè io dico i lettori sono crollate in 10 secondi e mezzo io ho un cronometro in mano e di lì non si scappa ok a questo punto stavo a spiegarmi se sono cadute per magia o se per caso quel giorno sono state sospese le leggi della fisica ovvio tu dici io traduco questa roba e a me la traduzione viene così ovvio che se non è quella la conseguenza logica ditemi voi come posso spiegare queste cose esattamente troppo evidentemente non basta cioè se noi ci fermiamo sull'orlo del baratro cioè alla domanda cioè allora chi è stato nel mio caso oppure allora cosa vuol dire nel tuo e lì si scatena il putiferio esattamente anche perché in realtà se si fa una lettura letterale e questo è l'assurdo non c'è bisogno di interpretazioni cioè basta leggere le interpretazioni nascono e nel momento in cui sorge la necessità di inserirci l'allegoria e la metafora allora lì si che bisogna inserire le interpretazioni allegoriche e metaforiche ma io dico se noi facciamo la lettura letterale non c'è bisogno di interpretare leggiamo ciò che c'è scritto e ciò che c'è scritto è coerente in sé perché altrimenti quando si dice che Dio dice non uccidere e poi Yahweh risulta uno dei più grandi assassini massacratori della storia perché ciò che faceva lui può essere definito in un modo solo pulizia etnica perché così noi lo chiamiamo adesso quando lui diceva uccideteli tutti comprese le donne i bambini e gli anziani questa è pulizia etnica allora poi qualcuno deve per forza dire che quando Yahweh diceva così no ma era allegoria era metafora no 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 allora se quelle affermazioni lì sono allegorie e metafora allora prendiamo la Bibbia e la buttiamo via perché vuol dire che ogni volta diceva una cosa per volerne dire un'altra allora se quello è il libro attraverso il quale Dio deve comunicare ha scelto di comunicare con me allora io guardo negli occhi quel Dio e gli dico tu Dio a me non puoi chiedere nulla perché tu con me non sei stato chiaro perché per dirmi delle cose ne hai fatti scrivere delle altre che sono in totale contrasto quindi è questo che dico se si legge ciò che c'è scritto e si segue la figura di Yahweh non c'è bisogno di interpretare nulla è tutto chiaro le interpretazioni nascono nel momento in cui si deve dire e finisco che Yahweh è un'altra cosa allora per forza bisogna interpretare la Bibbia perché quell'altra cosa non corrisponde a una riga una di ciò che c'è scritto nella Bibbia allora torniamo un attimo all'origine della discussione cioè quali sono i fatti identificabili e accertati quali sono i 5 8 10 fatti accertati inconfutabili che ti derivano dalla traduzione del testo che ti portano a formulare la conclusione del Dio alieno allora i più noti no diciamo che mi portano intanto alla conclusione del non Dio più che del Dio alieno perché poi quello come dicevo prima è l'ipotesi invece il dato certo è Yahweh non è Dio cioè Yahweh era un individuo in carne ed ossa uguale ad altri suoi colleghi che sono espressamente nominati e che dice la Bibbia avevano esattamente gli stessi poteri che aveva lui gli stessi diritti le stesse prerogative che aveva lui a lui è stato assegnato neanche un popolo ma è stato assegnato un pezzo di una famiglia questo lo dice chiaramente la Bibbia e altri pezzi della stessa famiglia sono stati assegnati ad altri suoi colleghi che la Bibbia nomina espressamente si combattevano tra di loro per strapparsi pezzi di territorio quindi Yahweh era un individuo in carne ed ossa che faceva svolgeva le funzioni lo dice la Bibbia era un Ishmilchama cioè un individuo maschio di guerra su questo non c'è nessuna possibilità di interpretazione Ishmilchama chiedetelo a qualunque ebreo del mondo significa individuo maschio di guerra quindi era un militare svolgeva le sue funzioni da militare e quindi questo è il dato di fatto dopo di che scusa se ti interrompo un attimo scusami perché è un attimo di confusione quindi esiste Yahweh ma non è un Elohim no no è un Elohim è che si chiama Yahweh così come i suoi colleghi uno si chiamava Milcom l'altro si chiamava Camosh ma lui è incaricato di occuparsi della famiglia di Giacobbe punto ma prima nella fase della creazione no lui non fa nulla nella creazione lo fanno gli Elohim sì esattamente lui entra in gioco quando gli viene assegnato questo pezzo della famiglia lui lì entra effettivamente nella storia tant'è anche lì se si prendono i testi più antichi come i testi di Qumran e i testi dei Masoreti si vede dove i Masoreti hanno inserito Yahweh per far credere che Yahweh avesse partecipato anche ad operazioni precedenti ma nei testi più antichi Yahweh non c'è in quelle operazioni precedenti quando per esempio Abramo deve presentarsi per essere accettato come comandante militare nei testi dei Masoreti si nomina Yahweh nei testi di Qumran molto più antichi Yahweh non c'è non c'è allora rispetto a Qumran è tutta una bugia no ma certamente certamente non c'è proprio Yahweh si dice che Abramo si presenta all'Elohim che si chiama Melchizedek che è il rappresentante locale di Elion che è il capo degli Elohim nei testi Masorettici scritti e redatti molti secoli dopo viene inserito Yahweh perché? perché nel frattempo la teologia giudaica aveva deciso che Yahweh doveva diventare prima il più grande degli Elohim e poi addirittura l'unico ok? il Dio unico ma in realtà nei testi più antichi in quei passi lì Yahweh non c'è ok scusami se insisto io vorrei tornare ancora un attimo alla mia domanda originale e cioè quali sono i passaggi più eclatanti che ti portano ok d'accordo alla conclusione che Yahweh non è il Dio creatore ma poi ci deve essere il passaggio successivo passaggio successivo è che Yahweh usava macchine volanti usava armi ad alta tecnologia armi che producevano effetti che la Bibbia chiaramente descrive che nella Bibbia c'è descritto chiaramente che alcuni dei grandi personaggi tipo Enoch per esempio Enoch viene preso dagli Elohim e portato via e mai più nessuno l'ha visto e tra l'altro di Enoch si dice che prima di essere portato via andava avanti e indietro con gli Elohim quindi aveva una frequentazione di salite e discese tra l'altro nella Bibbia c'è scritto che suo padre si chiama Yared e Yared deriva dal verbo Yared e siccome loro fissavano nei nomi eventi importanti vuol dire che al tempo del padre di Enoch c'è stata una grande discesa cioè una discesa molto importante dopodiché Enoch è stato scelto da loro frequentava loro come dice la Bibbia andava avanti e indietro con loro dopodiché a un certo punto se ne va con loro e mai più nessuno lo vede e camminò con Dio esatto e camminò con gli Elohim dice la Bibbia non con Dio esattamente poi con Dio esattamente viene tradotto dai teologi ma lui camminò con gli Elohim dopo Elia fa la stessa cosa viene preso e viene portato via e mai più nessuno lo vede e Ezechiele sale su un ruach e dice tra l'altro e questo cito proprio la traduzione in una delle Bibbie delle edizioni di San Paolo quindi non traduzione mia c'è scritto che Ezechiele dice che un ruach lo prende lo tira su cioè se lo porta su e dice sentì dietro di me un rumore di gran terremoto mentre il cavod di Yahweh si alzava da quel luogo quindi come dire il cavod di Yahweh è un qualcosa che fa rumore fa rumore mentre si alza se ce l'hai dietro la schiena magari non lo vedi ma senti il casino che fa questo lo dice la Bibbia ma nelle traduzioni ripeto delle Bibbie che abbiamo in casa perché sto citando la traduzione di una delle Bibbie delle edizioni di San Paolo quindi allora loro usavano poi si dice che Yahweh usava appunto aveva un'arma di fronte che come dire prima si scaldava e poi colpiva e bruciava chi gli stava davanti il cavod di Yahweh era un qualcosa che poteva non essere guardato da davanti perché produceva degli effetti mortali e Yahweh non era in grado di controllarne gli effetti tra l'altro quindi lo si poteva guardare solo di dietro dopo che era passato insomma ci sono tutta una serie Yahweh usava lo Zira Zira un'arma che viene tradotta anche qui con api e calabroni con api e calabroni sì esattamente tra l'altro è un termine singolare e Zira nei dizionali c'è scritto che è un qualcosa che colpisce la pelle la brucia e produce danni fino alla prostrazione cioè a seconda dell'intensità con cui veniva applicata poteva o bruciarti la pelle ed è per questo che viene tradotto con api perché le api fanno bruciare la pelle quando ti pungono oppure poteva procurare la morte quindi usava questi tipi di armi si spostava appunto con il suo cavod c'era i ruach che era un qualcosa di molto più grande i cherubini i cherubini sono chiaramente descritti come macchine volanti monoposto e c'è scritto che Yahweh ci volava seduto sopra stando seduto come si sta seduti a cavallo e questa è la traduzione letterale? ma questa è proprio letterale nella Bibbia cioè il verbo è cavalcare cioè stare seduti come si sta seduti ma non è un'interpretazione di Biglino è nei dizionari per esempio non so nella Bibbia noi troviamo sempre il termine eternità che in ebraico è olam bene se noi prendiamo il dizionario di ebraico aramaico biblici della società biblica britannica alla voce olam la prima frase è non tradurre con eternità si tratta di un tempo molto lungo noi nella Bibbia troviamo sempre eternità ma addirittura scritto nei dizionari non è un'interpretazione di Biglino quindi il giochino di trasformare in escatologico quello che in realtà era un tempo finito è continuo e viene riaffermato continuamente io dico nonostante l'evidenza ultima domanda a che punto sei con le tue ricerche adesso e cosa intendi fare nel futuro cioè quali sono i prossimi passi della ricerca che ancora vuoi fare e a quale traguardo vorresti idealmente arrivare per poterti dichiarare soddisfatto del tuo lavoro sì non so se mi dichiarerò mai soddisfatto perché sai quando si parla di testi scritti in lingue antiche la certezza non c'è mai per nessuno scrive il professor Garbini dell'università la sapienza di Roma quando si parla di traduzioni di lingue antiche neppure l'accordo di tutti gli studiosi del mondo sul significato di un termine garanzia di certezza quindi come dire il lavoro affascinante proprio perché uno sa che deve sempre studiare allora la cosa che per me è fondamentale è arrivare a documentare come la Bibbia non sia che uno dei tantissimi libri scritti dall'umanità nel corso della sua storia un libro che va preso per ciò che è quindi un libro dove sono state registrate delle memorie delle cronache e ovviamente tutti i popoli quando scrivono quindi non soltanto gli ebrei tendono a magnificare se stessi che è ciò che fa la Bibbia che scritta da quel popolo tende a magnificare se stesso bene ma far capire che la Bibbia e questo sempre di più con analisi parallele far capire che la Bibbia non fa altro che raccontare ciò che ci hanno raccontato tutti tra l'altro la Bibbia si occupa di ciò che è venuto in un piccolissimo fazzoletto di terra se noi mettiamo assieme ciò che ha fatto Yahweh nei secoli in quel piccolissimo fazzoletto di terra e mettiamo assieme ciò che ha fatto Alessandro Magno in undici anni capiamo la differenza tra Yahweh e Alessandro Magno è molto più grande il secondo ma è proprio Alessandro Magno è un gigante rispetto a lui un gigante capisco perché tu faccia incazzare molta gente eh certo la gente si arrabbia ma è questo ciò che racconta la Bibbia io non posso farci niente grazie a tutti grazie a tutti